Quali alcolici i giovani prediligono? Birra, vino, superalcolici, insomma che cosa va per la maggior? I giovani sono democratici, i giovani amano tutto, amano tutto e soprattutto quello che gli diamo. Diciamo che fino a qualche anno fa, fino al 1932, quando fu inventato il codice Rocco che diceva che è vietata la somministrazione ai minori di anni 16, esisteva già nella legislatura all'epoca l'idea di tutelare i minori da quello che può essere ovviamente un danno, che è un danno notevole per un minore. Il problema non è tanto nel pensare a quello che può essere l'impatto fisico dell'alcol sulla persona, noi pensiamo che oggi come oggi la legge vieta la vendita, ci sono voluti 70 anni per arrivare al debito di vendita insieme a quello di somministrazione, ed è una norma di tutela che è già esistente in tante altre nazioni nel riconoscimento che il minore soprattutto è quello che va tutelato dall'impatto immediato dell'alcol. L'alcol agisce subito, l'alcol ti può dare una serie di problemi e ti può esporre anche inconsapevolmente, pur involontariamente ad una serie di problemi e sono dei problemi rispetto ai quali i giovani devono confrontarsi, non c'è una bevanda alcolica che faccia bene o una che fa male, fanno tutte male, è la quantità e la frequenza di consumo che sono determinanti, quindi si tratti di alcopops, di birre, di breezer, di superalcolici, di cocktail, mojito, caipirinha o vino o champagne, non cambia assolutamente niente, sono le quantità, ripeto, il fegato è quello che metabolizza e distrugge l'alcol, se il fegato non è in grado di metabolizzare l'alcol, qualsiasi tipo di alcol non verrà metabolizzato e eserciterà il suo danno oppure incrementerà il rischio che potrà condurre la persona ad un danno.